Mille difficoltà, dal cancelliere che manca, dalla potevamo dire che si rompe, mille problemi. Però questa frase di Paolo Borsellino mi induce sempre a fare di più e a fare di meglio, non a rendermi davanti a difficoltà. E poi, è una frase bellissima che mi porto sempre nel mio cuore. È bello morire per ciò in cui si grida. Chi ha paura muore ogni giorno, chi ha coraggio muore una sola volta. Ecco, queste sono le cose che non dobbiamo dimenticare. Questo deve essere il nostro langero, questo deve essere il nostro ragione che si fa andare avanti. Grazie a tutti.